La mongolfiera è pronta, signore! Forza, salga! Ascolta bene, stupida ragazzina! Te lo chiederò una sola volta ancora! Perché non ti sei sbarazzata di quel dannato drago? Ho provato a spaventarlo, vostra altezza, ma non ha proprio paura di nulla! Non ha paura? Non ha paura? E cosa ti ho insegnato io in tutti questi anni? Usa la magia! Ecco un libro di incantesimi! Crea un mostro ed eliminalo! Ucciderlo? Non mi interessa cosa fai, stupida marmocchia! L'importante è che te ne sbarazzi! Ok, vediamo cosa abbiamo qui... Questo dovrebbe andar bene! Tu, vieni qui! Quando ho saputo che la maga voleva tenderti un'imboscata, sono venuta prima che ho potuto. Non preoccuparti comunque, sarà uno scherzetto per noi sconfiggere quella schiappa di una rana! Che cosa avanti? Non si può! Ero. Sì! Ero. Un'imrusa! Sì! 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 Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!